Luglietta! Il piatto dal titolo Aurora Dorata, onorata con crema di porre patate, con misticanze e funghi, ha avuto la meglio su secondo preparato dall'impiegata pesarese Lisa Tomasucci. Il suo bottino del corsaro prevedeva un filetto di spigola cotta, il cartoccio con patate, finocchio, cipollotto e pomodorini confit. L'ho iniziato come un gioco e l'ho preso così alla leggera, mi sono impegnata tantissimo, però l'altra concorrente stasera era molto brava, me lo aspettavo fino a un certo punto, però dopo ho visto che tutti mi sorridevano, mi hanno fatto i complimenti per il piatto e allora alla fine ci ho creduto e sono in finale, sono felicissima. A Lisa invece non è restato altro da fare che ricevere un premio di consolazione. Mi sono divertita e ho anche imparato qualcosa di nuovo dai cuochi che ho incontrato. Per conoscere il suo avversario nella finalissima in programma per domenica 29 novembre alla Cascina delle Rose, Lulietta dovrà attendere la seconda semifinale che si svolgerà tra Umberto Gennari e Chiara Sabati.